buona e ora non mangio il pranchetto ho bisogno di zucca io ne ho bisogno di zucca e io ne ho bisogno mangio il pranchetto e poi arrivo e poi ho bisogno di zucca e poi ho bisogno di zucca ok per bloccharlo mi mi ha sconqu... il mio ex coinquilino che come non sapeva cucinare nemmeno la pasta col tonno col tonno nemmeno la pasta col tonno l'unica volta che ho provato a cucinare un ragù non ha bollito il sugo prende dalla vaschetta scongelata la bersata nella pasta quindi abbiamo bevuto acqua sporca voglio mangiarci un zucco buono puliva sempre questo è come puliva le pendole perché tanto fuori non ci si mette la roba da mangiare quindi non serve a pulire ma qui c'è cotto dei viustel che cos'è sta roba c'è cotto dei viustel dentro le sopparate e le pulite più o meno ci sono certe incostazioni no vabbè se non vuoi incrustare no vabbè ci sono certe incostazioni ecco sono stato troppo buono nacio 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 se ci stai guardando ti vediamo bene e riguardati le pendole vanno le pendole vanno fatte anche sotto e dopo possiamo fare a gara no 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 ok ha tenemato ha tenemato tutto non c'era? erano bei tempi lo erano lo erano dovevi dire lo erano lo erano no era una shift erano bei tempi lo erano lo erano chi ha ucciso tu quel primo neonato? eh? ma solo a te? no facebook semmai solo a me penso che ti suggerissi solo ragazze si e basta senza senso si gucci gang 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 sweet on the coconut ok maledetto fuoco e ti dillo vedi ahhh però mi è andato pure a bene l'audio è una vita brutta ci riproviamo wuuh ci sono riuscito mamma no E' una brutta persona Aspetta che c'è il tilt invertito tipo il joystick E' una brutta persona 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 Tebow Oppure 10 centesimi Una brutta persona Buona Merca una Escuta Levi E' una brutta persona Qui la daranno in pezzi 5 Uno Daniele oppure fino a 5. Che ti ho detto io? Vabbè, non ho parlare. Mazza! Mi sto a fare delle riprese serie A, comunque. Sulle scale non sono molto bravo perché rischio di morire. Lo persero perché volevano i posti A4. Non è bello? Fra? 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 Questa conversazione la tieni? Non l'hai registrata, sei un coglione. Registra quando c'è il pallino rosso, come qualsiasi fotocamera. Vuoi il cancro? No. Vuoi il dono? Vuoi il dono. Vabbè, facciamo vedere il bellissimo panorama che stai da tre meno. Panorama. Grazie. Per fare i parodami, utilizzo quella quella. Non utilizzo quella quella lì. Potremmo guardare il buio. No. Io vedo il riflesso. Non lo so. Non ci vedo solo il riflesso, lo sai sì. Sì. È per enfatizzare il buio. Ok. идicate più. Grazie a tutti. Grazie a tutti.